Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio azzate, e questo per noi è importante, di essere in questo bel cinema-teatro che avevamo fatto tante cose nel premio Chiara, Festival del Racconto, mi dispiace che il sindaco in questo momento non riesce a esserci, però ci saranno delle persone che sicuramente rappresentano l'amministrazione comunale. Allora, questo teatro che riapre, secondo me mi sembra aver capito per la prima volta dopo tanto tempo, lo vediamo tutto molto bene attrezzato per poter seguire in presenza a questo incontro, un incontro particolare che ci aiuterà di sicuro a forse vivere meglio, a prendere questa situazione difficile, magari per cercare di capire come possiamo stare e fare famiglia in un altro modo e avere il nostro modo di essere che è cambiato, che è cambiato. Questo ci parleranno due personaggi che sicuramente voi conoscete, che realizzano questo lavoro a livello di psicologia, ed è, sono Alberto Pellai e Barbara Tamborini. Il premio Chiara da sempre, se voi vedete, ha un occhio per cercare di aiutare, di aiutare tutti, di aiutare a vivere in una situazione, in una strada, che magari ripensandoci si può anche cambiare. Abbiamo imparato delle abitudini, le abitudini ce le hanno toglie, tolte, però non ci possono togliere di sicuro la speranza. Una cosa, un saluto, prima di dare un saluto, volevo farvi vedere questo programma di eventi, che sono tutti in presenza, perché abbiamo domani, per esempio, la presentazione di un volume proprio su Piero Chiara, realizzato da Mauro Novelli, che è il curatore dei meridiani, di Chiara, meridiani sia dei racconti che dei romanzi, e sarà in presenza, e sarà al Salone Estense. Tutti questi eventi, meno il primo, il primo dove l'abbiamo fatta? L'abbiamo fatto in uno spazio che era così grande, ma è che era la Basilica di San Vittore a Varese. Perché l'abbiamo fatto lì? Perché avevamo un collegamento con sua eminenza, il Cardinal Ravasi. È stata una cosa molto bella, è stata una cosa emozionante. Lui ci ha parlato della speranza, trovate sul nostro sito, cliccate dove c'è l'evento, è stato presentato da Amanda Torno, anche queste presentazioni che sembrano, diciamo, giocate così per caso, non è vero, perché si cerca di avere vicino al personaggio una persona che può intervistarlo, che può condurlo, e che lo conosce. Ecco, per i saluti, diciamo, dell'amministrazione comunale e della Proloco, chiamo qui sul palco sia il vice sindaco, che è Simona Barbarito, che è assessore ai servizi educativi, sia Nicola Tucci, che è presidente della Proloco di Azzate. Teniamo su le mascherine, poi quando verrà realizzato l'incontro... Ecco Nico, allora si chiama qua, vice sindaco. Buon pomeriggio a tutti, veramente un piacere rivedere questo teatro vivere, perché appunto oggi inauguriamo una nuova stagione, si spera, dopo oltre un anno di chiusura. Sono felicissima di cominciare appunto questa nuova stagione con i nostri amici del Premio Chiara, che come Comune e come Proloco sosteniamo e ospitiamo da tanti anni, sempre con grande piacere. E poi, come non potevamo iniziare in modo migliore, secondo me, perché i dottori Tamborini e Pellai sono seguitissimi, sono molto amati e simati. Ricordavamo prima col dottor Pellai di quando ci eravamo già incrociati, qui ad Azzate, perché qualche anno fa con l'Associazione Genitori della Materna, delle Elementari e delle Medi, avevamo organizzato un bellissimo incontro nella palestra comunale con il patrocinio del Comune, sempre la collaborazione di Proloco, perché è sempre sentita la necessità da parte sia dei genitori che delle istituzioni della Proloco di organizzare qualche occasione di incontro per i genitori con persone, con professionisti del settore. Quindi, insomma, siamo contentissimi di iniziare così. Volevo ricordare che ci sono diverse opportunità per i ragazzi per avere un motivo di confronto, un modo di confrontarsi. Alle scuole medie abbiamo una bravissima psicoterapeuta che è pronta ad ascoltarli, abbiamo un bel punto di ascolto. Come piano di zona abbiamo il progetto del Fino a cui possono rivolgersi i ragazzi dei 14 e 24 anni. Quindi invito voi genitori a proporre ai vostri ragazzi, se li vedete in difficoltà, a rivolgersi a questi professionisti. a incoraggiarli, a non avere paura di confrontarsi con queste persone che li possono veramente aiutare e farli sentire meno soli di quello che in realtà magari possono essere. Non è sempre una cosa facile parlare con i ragazzi e dire fate aiutare, perché di solito c'è un discorso io so, so benissimo cosa devo fare e non sono solo i ragazzi purtroppo che dicono questo. La cosa importante è che noi stasera abbiamo, abbiamo due professionisti che sanno parlare alla gente, al cuore della gente, per cui sanno arrivare in un modo chiaro e corretto. Perché certe volte effettivamente senti anche dei grandi nomi, poi dopo esci e dici ma veramente cosa mi è rimasto dentro. Ecco questo, noi usciremo qui oggi sicuramente con un po' una ricetta. Nicola, a tutti. Bene, questo è di buon auspicio la sala del Teatro Castellani piena, diciamo che piena di voi, ma successivamente sarà questo evento registrato, pertanto poi sarà visibile anche sul sito del premio Chiara. Come prologo, ripeto, è di buon auspicio questo evento perché comunque ci porta vitalità, che è importante. E poi anche con gli esperti del settore che prima poc'anzi sono stati presentati, ci porteranno sicuramente a una nuova gestione di noi stessi nei prossimi anni, che sarà sicuramente un po' difficile riprendere, ma sicuramente ce la faremo perché pandemie ce ne sono sempre state. Quindi sicuramente supereremo anche questa, anche di gran lunga, pertanto auspico che tutto quello che verrà appunto detto qui in questo nostro incontro sarà sicuramente importante per noi stessi, ma anche da trasmettere anche ad altri. Questo è importante. Quindi direi che lascio la parola a Bambi per il tutto. Grazie mille, effettivamente, dammi ridami, questo va lo stesso. Volevo dire soltanto un discorso di programma. All'ingresso voi vedete che ci sono, c'è un banco di libri, un banco di libri importante, un banco di libri che tra l'altro sono a un prezzo ridotto e la cosa interessante è che i figli, due figli, perché loro ne hanno quattro, due figli aiutano. Ecco, questa è una cosa importante. I volontari sono importantissimi. Devo ringraziare lo staff del comune di Azzate che ci aiuta sempre, Marica e i suoi volontari, Tucci e i suoi volontari, anche lui è un volontario che ci aiuta molto, gli amici di Piero Chiara, Valentino e i ragazzi che vengono, perché è anche importante, vengono e dico, ho detto ai vostri figli, adesso lasciatele ai libri, tanto non vi ruberanno, speriamo di no, ecco, e venite a sentire. Sicuramente loro sanno già tutto di voi. Un'altra cosa veloce, oltre ai libri, poi alla fine risalgo su per dare, diciamo, i saluti. Prima dei saluti ci saranno un momento di qualche domanda, di qualche domanda, vera domanda, però non qualche curiosità che magari avete visto che è stata affrontata e però volete avere una spiegazione. Adesso presento Chiara Milani, che sale, giornalista e conduttrice e autrice di programmi TV ed eventi, attualmente è responsabile di Varese Mese, scusate, e conduce un programma quotidiano su Lette 55. Sicuramente voi l'avete vista. Grazie Chiara, a te la parola e noi scendiamo. Facciamo un applauso a loro? Buon pomeriggio, ma che piacere essere qui con voi stasera, veramente grandissimo. Se il vostro piacere di essere qui con noi è soltanto in minima parte quanto il nostro di essere qui con voi, beh, insomma, penso ci sia tanta gioia in questa sala, davvero. questo è, come abbiamo detto, l'evento un po' di ripartenza di questo teatro, ma non solo, perché è anche la prima volta che i nostri ospiti tornano in presenza dopo un anno che hanno passato a fare incontri online e quindi è molto speciale, poi è speciale per tante altre ragioni che io vi dirò. Ora, io potrei investire i primi dieci minuti semplicemente nel presentarveli perché il loro curriculum è veramente lunghissimo, però sono certa che se siete qui questa sera è perché ben sapete che avete di fronte e quindi cercherò proprio di riassumere e di dire psicoterapeuta dell'età evolutiva lui, psicopedagogista lei, entrambi scrittori di libri bestseller, lui è anche una medaglia d'argento alla sanità della Repubblica italiana, lei ha vinto con i suoi libri anche premi della critica, sono una coppia, sono esperti e sono soprattutto due belle persone, Alberto Pellai e Barbara Tamborini. mi dicono che sono perfettamente al buio, ho anche la mascherina nera, quindi è tutto perfetto, io ne approfitto per dirvi che essendo come ho detto una coppia, essendo una famiglia, loro possono togliersi ovviamente la mascherina, io faccio la cugina quella che viene a trovarli ogni tanto da fuori e quindi la mascherina la tengo, spero mi sentiate ugualmente, meno male, al massimo sentirete ogni tanto il respiro un po' affannoso ma ormai ci siamo abituati tutti in quest'ultimo anno immagino. Ora, io ho fatto la battuta sulla cugina ma davvero dato il tema di oggi che è la famiglia e dato il fatto che oggi è la giornata internazionale della famiglia o meglio la giornata internazionale delle famiglie non l'ho deciso io l'ha deciso l'ONU come ben sapete ormai quasi trent'anni fa beh mi piacerebbe veramente che questa chiacchierata fosse con un'atmosfera familiare avete presente quando ci si ritrovava una volta sembra un secolo fa in quelle belle riunioni tutti accalcati quando si facevano gli assembramenti e non sapevamo che si chiamavano così magari a Natale seduti uno sopra l'altro sul divano magari se li sentivamo un po' stretti per tanti motivi adesso invece li rimpiangiamo così tanto ecco io vorrei che pur tenendo in questo caso distanze mascherine questo fosse un po' lo spirito di oggi io non ho qui con me per questo motivo nessuna cartelletta ufficiale da presentatrice ho invece qui uno smartphone perché chi oggi in una famiglia non ha uno smartphone davanti quando ci si ritrova no scherzi a parte perché ovviamente do un'occhiata ai tempi perché vorrei veramente che voi aveste l'opportunità poi di fare loro delle domande e poi perché siccome come ho detto oggi è la giornata internazionale delle famiglie vorrei proprio un po' iniziare da qui perché c'è una dichiarazione del capo dello Stato che vorrei leggervi così com'è essendo una giornalista che ha detto veniamo da una stagione drammaticamente segnata dalla pandemia le famiglie che sono state una delle frontiere più avanzate della resilienza sono state colpite da tutti sofferenze lutti e dalle pesanti conseguenze sociali causate dalle inevitabili misure di contenimento questo aspetto accresce la necessità di attenzione nei loro confronti per realizzare una efficace ripartenza dunque grazie al premio Chiara per aver pensato in questa giornata così speciale a un incontro così speciale e quindi un po' come se fosse un lui dice lei dice io vorrei chiedervi innanzitutto un commento proprio sulla resilienza delle famiglie che sono state proprio descritte in questo modo dal capo dello Stato perché so che la resilienza è anche un tema a voi caro intanto grazie buonasera a tutti ringraziamo tantissimo Chiara perché una presentazione così non è che ce la fanno tutti i giorni e quindi un corso di autostiva accelerato trovo davvero bello che ci sia la possibilità intanto di ritornare in presenza a parlare di chi siamo stati di chi siamo in questo momento e anche di chi saremo perché effettivamente questo è il tempo del guado io sento che abbiamo davvero ancora un piede nel territorio da cui veniamo e in realtà davvero stiamo guardando avanti abbiamo molte evidenze insomma che ci dicono che è una ripartenza lenta come ha detto il nostro primo ministro ma piano piano avverrà proprio l'altro giorno ero in una ero in un incontro dove parlavano soprattutto i ragazzi e una delle quattro adolescenti che parlava raccontava che cos'era stata per lei questa pandemia lei ha avuto il papà in rianimazione per 45 giorni e dice è successo un po' tutto quasi all'improvviso no? in modo quasi casuale il papà che tossiva ma lui aveva già una patologia polmonare per cui nessuno ci ha fatto attenzione lui in realtà rimaneva nella sua posizione di papà eccetera e poi piano piano invece tutto velocemente è diventato faticosissimo e poi soprattutto lei diceva tutto è durato tantissimo e mentre tutto si interrompeva io dovevo continuare a essere me stessa no? a fare a fare tutto quello che c'era da fare cioè la scuola a distanza la sorella dei miei fratelli la figlia della mia mamma ed era una prospettiva incredibile perché effettivamente ci diceva col suo sguardo di adolescente quanto la vita l'avesse davvero provata e sfidata e quanto però anche nel suo racconto ci fosse il fatto che la vita le aveva veramente insegnato tantissime cose cioè lei non si era frantumata lei non si era rotta ma in questa tempesta collettiva aveva comunque trovato dei punti di riferimento diceva parlava benissimo della scuola lei diceva al mattino quando io mi svegliavo e sapevo che avevo le ore della didattica a distanza io sapevo che avevo un tempo che era per me ed era un tempo in cui la mia testa non avrebbe pensato a tutte le fatiche cioè vedere la scuola come una risorsa per la vita provate a immaginare e mi veniva in mente quanti genitori in questi mesi mi hanno a volte fermato dicendo c'è mio figlio che piange perché vuole andare a scuola dottore non me lo sarei mai immaginato neanche una volta nella vita ecco dico piccoli pezzetti così piccole narrazioni ne sono arrivate avendo una pagina poi che è veramente tanto letta dai genitori io ho avuto il privilegio di collezionare tantissime storie e una mattina guardavo fuori nel primo lockdown guardavo fuori dalla mia finestra e tra l'altro l'anno scorso in primavera a me io ho avuto questa percezione che la natura fosse esplosa non mi ero mai reso conto della potenza della natura in realtà era perché noi eravamo tutti chiusi in casa e quindi è chiaro anche questo secondo me ci dice tantissimo quanto ridefiniamo proprio l'essenziale dentro le nostre vite nel momento in cui di quell'essenziale ci accorgiamo veramente che spesso è in me il tempo della privazione direi anche questo succede tantissimo anche dentro alle relazioni non ne abbiamo cura poi quando improvvisamente la relazione si interrompe ti abbandona viene a mancare improvvisamente senti la potenza il vuoto che viene lasciato ecco guardavo un albero lo vedevo lì stabile stabilissimo e mi è proprio venuta da scrivere questa cosa che secondo me me la sono poi letta riletta tante volte l'ho letta più volte alle persone ma credo che racconti chi siamo stati noi famiglia in questo tempo di pandemia quando la vita diventa una tempesta le nostre relazioni familiari se funzionano sono come un albero al quale aggrapparci per sentirci protetti e al sicuro quel tronco sei tu per me io per te abbiamo radici che ci fanno sentire ancorati al terreno abbiamo braccia che diventano funi quando temiamo di essere strappati via dal vento abbiamo mani che diventano rami innalzati verso il cielo per cercare la luce oltre le nuvole del temporale per invocare l'infinito nel nostro tempo finito diventare tronco radici rami è così che si rimane radicati alla vita ecco a me verrebbe proprio da dire che alla fine la famiglia è stato un avamposto di questa di questo tempo di battaglia tra l'altro invisibile per tantissimi mesi se avete la memoria nel primo lockdown era così urgente così emergente tutto il fronte sanitario che noi dovevamo stare chiusi con i nostri figli e non dire una parola stare proprio dentro i copioni che ci venivano assegnati e questo è stato decisamente faticoso ci ha però fatto mettere in gioco tantissime risorse parliamo chiaramente di famiglie che non erano già fragili e vulnerabili perché quelle fragili e vulnerabili non hanno retto una richiesta così grande e così forte questo secondo me è un tempo di rielaborazione cioè è un tempo anche in cui davvero dobbiamo domandarci cosa abbiamo imparato che cosa abbiamo perso ma che cosa abbiamo anche messo via nel nel nostro zaino per la vita credo anche che sia un tempo e questo lo vedo succedere anche in quello nella politica il fatto che abbiamo avuto gli stati generali della natalità la riflessione che noi dobbiamo davvero riappropriarci poi della dimensione grandissima dei legami la potenza della relazione familiare nessuno si salva da solo e noi dobbiamo veramente risentire quanto è essenziale avere cura della relazione all'interno del nostro mondo per cui mi viene da dire anche che sono davvero stupito non c'entra niente con quello che stiamo dicendo ma mi sembra impossibile che fino a tre settimane fa parlavamo di Israele come dello Stato in cui si costruiva proprio il ritorno alla vita dico sono stati i primi sono arrivati fin lì e dopo che hanno avuto questo traguardo che cosa sta succedendo una roba che toglie il fiato e quindi dovremo veramente ancora di più riflettere profondamente su chi vogliamo essere perché rischiamo altrimenti di diventare tutto ciò che questa pandemia non doveva farci diventare però io ho una donna molto molto saggia al mio fianco che io faccio le parole e lei fa la pratica e adesso raccontala un po' tu la pratica buonasera anche da parte mia anche per me è bellissimo essere qui stasera e direi che appunto in linea con con quanto detto d'Alberto aggiungerei solo un pensiero rispetto a che cosa ha significato questo tempo un po' per le famiglie ma poi per ciascuno di noi e riflettevo forse che l'elemento che più abbiamo toccato con mano e che abbiamo visto più da vicino forse è stato proprio anche l'esperienza del limite dico in qualche modo questo perdurare di un tempo difficile sfidante con tanti imprevisti con tanti cambiamenti fuori programma e poi con in molti casi una convivenza impegnativa da gestire dove ogni giorno bisognava quasi essere degli artisti per riuscire a tenere insieme gli impegni i bisogni le necessità e molte volte questa cosa specie all'inizio siamo riusciti a farla anche con parecchie energie ma poi ci sono stati giorni di grande difficoltà anche chi era abituato a funzionare bene chi in qualche modo si sentiva sicuro del suo del suo lavoro della sua famiglia delle sue redazioni indubbiamente in questo tempo lungo ha vissuto dei giorni di fatica dove il limite in qualche modo si è presentato davanti abbiamo visto anche lati di noi stessi che magari non sono così facili da accettare e da digerire avremmo voluto essere sempre performanti sempre attivi dinamici e invece ci siamo accorti che magari a volte avendo in mente di fare tantissime cose la stanchezza non ci permetteva ci sentivamo più stanchi di quello che avremmo voluto essere volevamo fare tutto in casa fuori casa e magari ci siamo accorti che i nostri dolori ci limitavano anche se non eravamo anziani ma ci sentivamo affaticati oppure demotivati non avevamo voglia di ridere non avevamo voglia di rimetterci in gioco ecco abbiamo tutti vissuto giorni chi più chi meno magari per qualcuno sono stati pochissimi giorni così altri ne hanno vissuti tanti ma questa esperienza credo che sia stata comune a tutti uomini donne e anche i nostri figli hanno proprio toccato con mano questi giorni difficili e credo che la forza e proprio la sicurezza di cui parlava anche Alberto di questo albero potente è nata proprio dal dalla volontà di in qualche modo accettare anche queste parti limitate perché non siamo riusciti a togliercele di dosso a strapparcele di dosso ma abbiamo dovuto proprio imparare un pochino a tenerle lì e provare a fare andare avanti la baracca per come per come riuscivamo e in qualche modo lentamente ci siamo abbiamo visto che poi il giorno finiva ne ricominciava un altro che magari andava un po' meglio e abbiamo dovuto proprio diventare un po' ricercatori capire quali potevano essere gli appigli che ci facevano bene quali sono stati gli sguardi ecco non abbiamo potuto godere degli abbracci che per molti sono stati una mancanza cioè un nutrimento fondamentale allora abbiamo dovuto magari cercare degli sguardi delle canzoni un film una passeggiata nel bosco appena si è potuta fare perché nel primo lockdown ce la dovevamo immaginare più che che fare e poi anche magari con i figli riscoprire con il partner per come era possibile e cercare proprio di ripartire con la consapevolezza di questi limiti più viva ma non per questo sentendoci delle persone peggiori o delle persone sbagliate ecco credo che questo delicato lavoro probabilmente è quello che potrebbe aiutarci a uscire fuori in qualche modo rafforzati anche da questo tempo così complesso e davvero il desiderio è di uscire fuori come persone migliori pensavo a mi capitava in questo periodo alcune volte magari quando vado a fare la spesa una delle attività delle attività di svago meravigliose di questo periodo e a volte magari quando cade una cosa dal carrello della persona che hai avanti un gesto spontaneo che veniva prima era chinarsi e passargliela adesso questa cosa mi colpiva dicevo vedi non è così perché poi dici il contatto la mano magari una persona anche anziana che hai davanti e che vedi a me è capitato una volta che tutte le monete a una signora molto anziana gli sono cadute tutte le monete quindi insomma un'impresa per lei poterle raccogliere ecco e lì dico mi si presentava davanti davvero la sfida della contemporaneità dove tenere insieme la sicurezza la prevenzione ma anche l'umanità che è proprio l'aspetto che ci contraddistingue e che è davvero la promessa per un futuro promettente credo proprio anche per i nostri figli in questo tempo di chiusura aiutarli proprio a continuare ad avere uno sguardo attento alle persone che ci stanno vicino ai bisogni a dei parenti molte cose non si sono più potute fare andare a trovare i nonni andare a trovare gli zii per tanto tempo e in qualche modo è diventato in alcuni casi una fatica no? dover proprio rinunciare a degli affetti ma in altri poi un chiudere a un dovere magari anche impegnativo no? e quindi ritenere vivo questa attenzione proprio questo sguardo che magari va semplicemente fatto con una telefonata con con un'attenzione proprio l'aspetto di di umanità che dobbiamo tenere vivo prima di tutto in noi stessi ma poi proprio anche nelle persone che ci sono vicine molto bello sì sì ci va l'applauso l'ho visto partire non lo fermo e su questo io poi vorrei tornare però prima c'era una riflessione che facevo tra le tante assenze che abbiamo sentito che abbiamo avuto in questo periodo c'è stata in compensa anche una presenza a volte quasi assillante ma di certo molto più presente di prima l'ho citata io prima ridendo quella della tecnologia no adesso io immagino due professionisti in smart working quattro figli con la dad roba che una volta sei computer o device neanche c'erano voglio dire in una casa è stata la realtà magari a volte con qualche figlio in meno ma insomma con cui si sono trovati a fare i conti tantissimi di noi e proprio la tecnologia e l'impatto della tecnologia sulle famiglie è il tema della giornata internazionale delle famiglie di quest'anno e ve ne siete occupati so insomma anche voi in questo periodo magari partirei da lei in questo caso ok alterniamo e vorrei proprio una riflessione su questo cioè sull'impatto delle nuove tecnologie nelle famiglie in questo periodo così diciamo sfidante sicuramente è un tema molto caldo io credo che su questa riflessione noi dobbiamo dire grazie sicuramente a tutti i libri che ogni quotidianamente leggiamo che sui quali stiamo proprio lavorando su un libro rispetto al rapporto con le tecnologie quindi abbiamo letto moltissimo ma il primo grazie lo dobbiamo dire ai nostri figli che in qualche modo uno ci aiutano a non diventare mai troppo coi paraocchi e troppo quadrati e abbattere qualsiasi pregiudizio e tenere sempre aperta un pensiero che si confronta e che non semplifica l'altro aspetto è sicuramente che la tecnologia in questo tempo di lockdown è diventata qualcosa di necessario per tutti perché ci ha permesso proprio di rimanere in contatto di fare cose che sappiamo tutti benissimo pensando alla vita che abbiamo fatto in casa credo che la vera sfida sia continuare a domandarci qual è la giusta misura e qual è l'uso che fa star bene me e le persone che ho intorno e questa è proprio una sapienza dinamica che dobbiamo allenare e sulla quale dobbiamo davvero tenere sempre aperti gli occhi sarebbe bello avere una cartina di tornasole pensavo a quella che si usa per ad esempio analizzare il vino e alcune sostanze ecco poter usare questa cartina quotidianamente per dire ok l'uso del cellulare che faccio io nella mia giornata e ovviamente ripetere questa valutazione quotidianamente ecco l'utilizzo che faccio in qualche modo migliora la qualità mia della vita e delle persone che ho intorno e soprattutto quanto mi lascia attenta al qui e ora che mi è prossimo perché dobbiamo io penso questa la penso verissima per me poi ciascuno potrà dire il suo pensiero ma credo che la vera differenza noi la possiamo fare in ciò che ci è prossimo poi possiamo coinvolgerci in progetti che riguardano molte persone con testi allargati professionalmente ma di sicuro la qualità di quello che siamo la dobbiamo costruire nel piccolo con le persone che ci sono più prossime che spesso sono quelle che più ci sfidano dove è più difficile mantenere la coerenza la qualità della relazione l'attenzione ecco e quindi credo proprio che la tecnologia forse minaccia soprattutto questa dimensione e pensavo proprio un gioco che facciamo con Caterina la nostra bambina la nostra ragazzina a 12 anni e che un pochino ci siamo divertiti a fare è stato quello ma guardiamo un pochino le persone che usano il cellulare e che a volte perdono contatto con la realtà abbiamo iniziato questo gioco perché tornando dovevamo entrare nel nostro portone c'era un ragazzo davanti che stava usando il cellulare noi abbiamo la macchina ibrida quindi non fa rumore e abbiamo messo la freccia eravamo lì e lui era davanti era a tre metri dalla nostra macchina che usava il cellulare e non c'è stato verso noi eravamo lì che aspettavamo di poter entrare ma lui stava davanti all'arco e quindi così c'è nata l'idea dico ma proviamo a fare un po' questa indagine quindi anche lei ogni tanto dopo a un certo punto si è spostato grazie al cielo siamo riusciti a entrare ma poi mi dice ah sai che magari è tornata qualche giorno dopo mi fa oggi sul marciapiedi mi è capitato che uno mi è venuto addosso perché stavo usando e da lì ecco effettivamente questa cosa poi se ci guardiamo anche noi tante volte la facciamo a volte capita che mi parlano e sto guardando i messaggi devo vedere tutti gli avvisi e in qualche modo questa dimensione è sicuramente sfidante per tutti e credo che solo stimolandoci a vicino facendo quel lavoro un po' che non è tanto piacevole ma di correzione reciproca soprattutto tra chi è prossimo ecco questo è davvero un motore prezioso io vedo che anche con i nostri figli più grandi a volte ci aiutano con i figli loro a casa nostra abbiamo messo la regola che il cellulare arriva dopo la terza media quindi già la testimonianza che sono rimasti vivi è già molto preziosa per i più piccoli perché dicono vabbè e quindi così e poi la cosa che per noi è stata meravigliosa è riflettere con loro che ovviamente mentre dovevano aspettare fino alla terza media non erano così felici di dover accettare questa regola e quindi hanno lottato in tutti i modi per poter ottenere qualche diritto ma superata la soglia e ricevuto poi il cellulare alle superiori riguardavano al tempo senza cellulare come un tempo di valore non hanno mai detto che quel tempo è stata una rigidità che ha tolto a loro delle possibilità e anche parlando con i fratelli più piccoli questa cosa proprio della percezione che è un limite così loro utilizzavano il cellulare nostro e quindi in qualche modo potevano mantenere tutti i contatti ma avere questa cornice che è stata se dicevamo scegliete voi avrebbero sicuramente scelto terza elementare credo ma l'abbiamo decisa noi abbiamo dato questa cornice un paletto chiaro e effettivamente mettere dei paletti chiari significa che nello spazio che rimane dentro a questi paletti loro sono davvero liberi hanno davvero la possibilità di fare infinite cose non avevano il cellulare ma potevano fare infinite cose che potevano organizzarsi gestire sperimentare ecco sentire loro a posteriori nel vedere questa scelta come una scelta di valore e in qualche modo anche spiegarla loro stessi la spiegavano ai fratelli più piccoli per noi è stato proprio un toccare con mano davvero il valore del fatto che a volte mettere dei paletti anche se risultiamo antipatici e anche quando ce li mettono a noi perché anche noi se poi ci mettiamo i paletti reciprocamente non è che proprio uno dice grazie caro che mi hai detto che sto usando il cellulare in macchina e ti dà fastidio no ci sentiamo diciamo ma come però effettivamente è una risorsa preziosa io aggiungo proprio che poi dal mio osservatorio questo è un tempo che ci obbligherà a lavorare tanto in termini di educazione digitale e di riabilitazione digitale dei nostri figli io ho proprio la percezione che è stato un tempo dove l'interconnessione ha salvato la vita ai nostri figli se riflettete io a 14 anni se mi dicevano ti mando in castigo non uscire dalla tua stanza per due giorni sarei morto avrei fatto la rivoluzione loro ci sono stati dentro per due mesi senza mai venirne fuori e certamente l'interconnessione ha reso possibile la loro sopravvivenza però per tanti è diventata iperconnessione io la percezione io proprio i racconti no dei genitori cioè dottore ho scoperto che il mio bambino di 10 anni si sveglia da 3 settimane alle 3 di notte mentre noi dormiamo a giocare a fortnight e adesso ci rendiamo proprio conto che abbiamo perso il controllo perché era una cosa che non avremmo mai immaginato dottore siamo stati io sono stata picchiata da mio figlio perché dopo 3 ore che giocava con il suo videogioco ho tirato via la presa della corrente e in un millisecondo questo mi è saltato addosso e mi ha dato è vero che 2 ore dopo piangeva e diceva mamma ma io non volevo però intanto questo è quello che è successo io non volevo che entrasse dentro a quel social così ha fatto il profilo fake e c'è dentro 11 anni guarda che mi ha chiamato il dottore mi ha chiamato la mia amica e mi ha detto che ha visto mia figlia dentro a un social con delle foto che non andavano assolutamente bene quindi c'è un tempo c'è un tema di quantità quanto tempo ci stanno stavo proprio guardando delle ricerche della società italiana di pediatria che ai meno dicono che il tempo medio della connessione in questi mesi dai 9 ai 14 anni è stato dalle 8 ore in su al giorno di cui 5 di dad ma almeno 3 di altro e poi dalle 3 ore in su ed è chiaro che questa cosa impatta in modo molto forte è anche chiaro secondo me che noi genitori quando ci accorgiamo che il problema è un problema evidente cioè io mi accorgo che quando un genitore mi chiede aiuto mi scrive mi descrive la situazione è perché è già andata molto molto in là e quindi è come se improvvisamente mi rendessi conto che io non ho più l'autorevolezza riconosciuta anche se la volessi avere mio figlio mi ha proprio messo in un altro territorio e ne parlavamo con due genitori la settimana scorsa cioè la mamma diceva proprio questo sto parlando con lei perché quando io io vorrei fare degli interventi con il mio ragazzo era un tredicenne ma adesso mi sento spaventata a fare un intervento perché ho paura delle sue reazioni troppo troppo aggressive troppo violente lì era molto utile perché erano insieme mamma e papà vedevano il problema bene e noi possiamo se la coppia genitoriale si rimette un po' in alleanza con calma dice ok domani sera parliamo ci sono un bel po' di cose che noi con te dobbiamo affrontare in fin dei conti è un tredicenne non è la logica noi siamo due adulti fatti e finiti e proprio perdere il contatto con un figlio vuol dire esserne spaventati cioè non sentire che io non riesco più a tenere in mano la fune lui ha tutto il diritto di essere dall'altra parte tirare ok ma deve proprio percepire che da questa parte c'è un fronte compatto però ecco un po' a consolazione sono sicuro che avremo da lavorare e credo proprio che noi genitori dovremo proprio fare un'alleanza molto molto sana al piano alto delle relazioni tra adulti cioè dovremo cominciare veramente a sviluppare una mente adulta comune che vede un po' di cose dall'alto e quindi si sente tranquilla e autorizzata a dire a un figlio questa roba qua non va bene non hai ancora l'età è troppo eccetera eccetera però facciamo molta fatica in questo momento a tenere questa posizione perché abbiamo la percezione di essere magari gli unici che pensano così e no non glielo posso dire dottore perché tutti i suoi amici ce l'hanno tutti i suoi amici lo fanno eccetera eccetera a consolazione però una delle lettere più belle che ho ricevuto in questo tempo parla di un quattordicenne che mi dice che poi quando uno è sano se la va a prendere poi la salute il benessere cioè la vitalità l'energia esplode proprio dentro i nostri figli cioè si sapranno se gli diamo l'occasione si sapranno riappropriare della vita che serve a loro ecco sapranno andare a riprendersi proprio quello che gli serve e in questo condivido con voi una lettera che mi è piaciuta tantissimo e mi ha scritto una mamma in relazione anche lei ha un figlio Pietro come noi stessa età di nostro figlio un 13-14enne e secondo me il racconto che ci ha fatto che mi ha mandato di suo figlio ci dice esattamente che cosa serve ai nostri figli per stare bene gentile dottor Pellai c'è un'immagine del periodo di lockdown che si mescola tante altre che ancora mi incanta e mi fa sorridere la vorrei condividere con lei quest'immagine racconta di mio figlio 14enne chiuso in casa con grande fatica inizialmente ma poi capace di stare alle regole e di consolarsi con la compagnia della sorella maggiore gli ho visti spesso sgaiati sul letto di lei ad ascoltare musica e guardare video quando siamo stati a ridosso dell'allentamento delle regole il famoso 3 maggio Pietro ha rivisto e incontrato un paio di amici coetanei e vicini di casa non so se si potesse parlare di assembramento e se i ragazzi stessero gravemente violando le regole sinceramente mi ha fatto piacere constatare il forte bisogno di Pietro di stare fisicamente con gli amici e non accontentarsi di comunicare via chat ma è la maniera in cui si sono organizzati che mi sorprende Pietro e i suoi amici sul finire di aprile hanno cominciato a darsi appuntamento su un albero a 30 metri da casa si incontravano verso le 6 tutti e tre con la mascherina si arrampicavano e si appollaiavano su rami ben distanti e stavano in compagnia mentre sotto di loro sulla ciclabile passavano signori con il cane runner più raramente mamme o papà con bambini nel passecino e quando vedendolo rientrare dopo un'oretta qualcuno chiedeva hai visto gli amici siete stati distanti che cosa avete fatto lui rispondeva eravamo sull'albero ognuno sul suo ramo abbiamo parlato di quello avevano bisogno di parlare ma secondo me la forza pazzesca è che è chiaro che potevano parlare anche in una videochiamata ma nell'organizzarsi in quel modo lì loro stavano dicendo c'è parlare e parlare e quando uno sente la differenza poi non ne può più fare meno ecco avete detto se non ho capito male che state lavorando a un libro sull'argomento io sinceramente non vedo l'ora di leggerlo perché penso veramente che ce ne sia tanto bisogno in questo momento per tutti per chi ha figli veramente di ogni età però quello che ha letto adesso era un passo di mentre la tempesta soffiava forte insomma se non ricordo male perché c'è stata da un lato ai noi per l'occasione dall'altro per fortuna perché anche in questo caso è stata la risposta a un bisogno la possibilità durante questi mesi di riflessione di appunto scrivere dei libri che poi sono quelli che anche trovate qui io non vi chiedo di leggerceli tutti perché giustamente non bisogna spoilerare tutto come si usa dire oggi cioè anticipare tutti i contenuti però su qualche punto vorrei così fissare l'attenzione un altro dato che è venuto fuori ovviamente in occasione di questa giornata è che sempre più spesso le famiglie in realtà sono composte da una persona allora è vero che c'eravamo sempre più abituati da un lato a famiglie sempre più ristrette ecco i quattro figli sono un'eccezione sinceramente oggi in Italia dall'altro però nell'ultimo periodo c'erano anche tante famiglie allargate perché lo sappiamo magari i genitori si dividevano creavano altre famiglie e quindi comunque c'era anche questa dimensione di famiglia allargata ora quello che è successo e che ancora stiamo affrontando ha ristretto ha ristretto tantissimo la dimensione di famiglia oltre per chi si è trovato singolo e sappiamo anche ovviamente tutte le difficoltà di chi si è trovato a vivere proprio da solo solo soprattutto il primo lockdown ma in generale oggi prima dicevo loro scherzando se ti arriva la zia in casa e senza mascherina ti sbaciucchia il figlio è panico è panico assoluto l'idea nostra di famiglia di familiari si è veramente ristretta tantissimo e questo ha sicuramente un impatto comunque anche nelle nostre relazioni anche nel momento in cui ci aprono la porta e ci dicono pian piano possiamo tornare alla normalità e allora una riflessione la vorrei anche proprio su questo partiamo da lui stavolta partiamo da lei facciamone una ma sì penso proprio che dovremmo riflettere su chi è l'altro per me e questa è proprio una riflessione che riguarda la famiglia ma riguarda anche la dimensione escrafamiliare dovremmo io penso che il concetto di distanziamento che è stato così necessario ai fini della prevenzione dovremmo davvero dirci se è stato solo fisico o se è stato distanziamento sociale mi sento di dire nella prospettiva di chi cresce che di nuovo questo e questo sarà proprio un imperativo per i prossimi mesi cioè le relazioni le devi imparare non è che ce le hai già detto tu hai dentro una propensione alla relazione la nostra è una mente relazionale è proprio vive cresce si sviluppa nella dimensione interpersonale però ti devi allenare alla relazione la crescita è allenamento alla vita e la palestra per allenarsi sono gli altri gli altri rappresentano il fattore di protezione più importante che c'è nella vita dei nostri figli non per niente anche se noi vogliamo valutare quanto sta bene un ragazzo o una ragazza una domanda che facciamo ai genitori è mi racconti come è quanto è e quando è con gli altri che cosa sappiamo della sua vita con gli altri perché lo sappiamo anche proprio uno può avere tutti dieci in pagella ma se di questi tempi se poi rimane sempre chiuso nella propria stanza noi genitori per primi ci preoccupiamo capiamo che probabilmente nella vita non riuscirà ad andare molto oltre allora le relazioni ritorneranno davvero quelle che erano prima nel senso che ne abbiamo un grande desiderio ne abbiamo sentito una scruggente nostalgia io se ripenso anche a moltissimi anziani e alla vita di isolamento e di separazione che hanno dovuto fare in questo tempo so anche però che molti constateranno che ritornare da un anziano che non ti vede da un anno da un anno e mezzo potrebbe voler dire che lui non ti riconosce più che tu non sa più lui non sa più chi sei tu sai chi è lui e lui non e questo perché perché il nostro cervello ha le reti relazionali le reti neuronali proprio delle relazioni che sono come muscoli vanno allenati vanno tenuti proprio in movimento in in funzione dovremo davvero riappropriarci della socializzazione e mi sento di dire ai genitori cioè dovremo veramente spingere alcuni nostri figli fuori di casa alcuni non vedono l'ora di e quindi sono proprio lì pronti no che anzi scalpitano altri invece saranno in una zona più ritirata proveranno anche a fare con noi un po' di contratti no ma dai lascio lo sport ma dai non torno più dagli scout ma non ne ho mica tanta voglia abbiamo visto abbiamo constatato ci sono statistiche che ci dicono di ritiro scolastico di abbandono scolastico e lì dentro in moltissimi casi c'è davvero la paura dell'altro non perché l'altro mi fa del male ma perché l'altro in realtà diventa lo sguardo che mi fa capire chi sono veramente allora io pensate no gli kikomori quando parliamo di ritiro sociale alcuni di loro sono dentro al loro videogioco sono una potenza mondiale hanno sono arrivati al livello 12.000 e tutto il mondo parla di loro magari non escono più però dalla loro stanza perché hanno un potere enorme dentro a quello spazio e poi non riescono più ad andare dalla porta di casa al negozio dove si vende il pane ecco su tutti questi elementi proprio quando diciamo l'onda lunga cioè cosa dovremo su cosa dovremo investire dovremo investire tantissimo in educazione e in relazione e molto probabilmente una figura chiave nei nostri territori sarà quella dell'educatore avremo bisogno dell'educatore di strada avremo bisogno dell'educatore che va a casa e piano piano riprende per mano quelli che non riescono ad uscire poi avremo bisogno di una comunità adulta che ha uno sguardo educativo io mai come in questi mesi ho sentito però forte il bisogno di parlare di educazione non mi era mai successo io è vero che ne parlo tanto ecco però tanto quanto ne ho parlato in questi mesi pur chiuso dentro alla stanza di mia figlia Caterina e gli ero uno schermo non mi è mai successo di farlo e credo che anche questo ci faccia molto molto bene perché o perdiamo la partita e veramente diventeremo ognuno di noi isole che si abituano all'io e dimenticano il noi o piano piano della dimensione del noi ci riapproprieremo in modo forte aggiungo solo due pensieri rispetto alle relazioni e da una parte forse una cosa di cui abbiamo tutti consapevolezza è che ci sono delle relazioni fondamentali che sono quelle che ci permettono insomma di stare bene delle quali abbiamo proprio un bisogno intenso dove parlavi prima di bisogni proprio della parola bisogni effettivamente queste sono le relazioni che ci nutrono e quelle che in qualche modo abbiamo trovato siamo riusciti a mantenere anche nel tempo di lockdown massimo le relazioni in casa ma poi proprio anche quelle che ci fanno sentire con cui ci sentiamo liberi e che ci possiamo condividere i nostri bisogni possiamo raccontarci e questa cosa è fondamentale mantenerla viva a volte nel tanto fare è come se il cassetto dei bisogni lo mettessimo lo mettessimo in cantina perché effettivamente dire adesso anche raccontare di quello di cui ho bisogno con tutto quello che c'è da fare con tutto quello però succede sempre che quando lo mettiamo troppo in cantina a un certo punto esplode e dobbiamo riprenderlo per mano anche qualcuno fa proprio fatica a condividere la difficoltà il limite dicevo all'inizio il discorso sul limite ma in qualche modo questo è davvero un esercizio fondamentale riuscire proprio a trovare il coraggio di raccontare quando magari ci siamo sentiti in difficoltà con le persone di cui ci fidiamo che ci vogliono bene che ci conoscono bene ecco fa veramente quel click che permette poi di ripartire quindi questo sicuramente è qualcosa che più o meno siamo riusciti tutti a mantenere ma è fondamentale nutrirlo e mantenerlo sempre di più e trovare spazi e tempi per mantenerlo vivo la seconda cosa invece pensavo alle relazioni più faticose una cosa che notavo è ad esempio il tema del lockdown il tema del coprifuoco una cosa che mette che alle 10 ci si deve salutare si può essere con chiunque ma alle 10 ciao ciao e via e credo che sia capitato a tutti di pensare dire però è anche insomma alla fine magari uno è molto stanco e dice vabbè alle 10 ci salutiamo tutti ognuno va a casa sua e di fatto anche alcune cose che non le abbiamo potute fare perché le regole le vietavano dicevo questa forse tocca un pochino anche una tentazione che le relazioni più faticose quelle magari che non sono così immediate ma dove in qualche modo noi siamo interpellati comunque perché proprio anche il valore dell'apertura del metterci in gioco anche dove è un po' faticoso alla fine qualcosa che poi dice rispetto a che cosa vogliamo essere che persone vogliamo essere ecco riallineare quella capacità e quella volontà determinata a tenere aperte delle porte che magari non sono subito luoghi dove portiamo a casa molto ma magari luoghi dove dobbiamo starci dentro più con la testa che con la pancia perché non ci viene così spontaneo ma che poi hanno un valore perché magari quella persona ha bisogno di una compagnia di un'attenzione ha bisogno del nostro sguardo e inizialmente magari lo facciamo più con la testa che col desiderio ma poi riscopriamo che quella parte ci rivitalizza e ci fa sentire proprio delle persone capaci di scoprire magari cose meravigliose in persone che apparentemente avremmo tenuto distanti e questo credo che è un'esperienza che fanno grandi e piccoli ma proprio come poi la relazione intima fa scoprire le parti belli dell'altro anche magari ci sono alcuni che sono un po' con la corazza spinone un video che ci piace moltissimo un cortometraggio che abbiamo visto con i nostri figli è il cortometraggio di un porco spino di un riccio che ha un sacco di aculei e lui vuole stare con gli altri ma tutte le volte fa danni gioca a pallone con i suoi amici buca il pallone abbraccia qualcuno e lo punge va a spingere qualcuno sull'altalena e gli fa male quindi un disastro lui vorrebbe fare ma tutti lo tengono a distanza perché effettivamente è pericoloso allora a un certo punto arriva un amico vi spoiler tanto dura 4 minuti vabbè mi spiace però arriva un amico e gli porta un regalo uno scatolone e lo apre e così vede tutti dei pallini di polistirolo e cerca il regalo perché questi servono per proteggere un regalo e non trova niente resta un po' deluso poi tutti gli amici che sono intorno iniziano a mettergli i pezzi di polistirolo sugli aculei e così lo possono abbracciare e in qualche modo in questo sforzo collettivo c'è davvero un incontro dato proprio dalla volontà ferma di trovare il modo di incontrarsi e anche di trovare il modo di stare bene profondamente con l'altro cioè il desiderio di fare quella fatica che permette poi la scoperta e l'incontro credo proprio che dobbiamo tutti motivarci a ripartire in quarta in questa direzione ora io chiacchiererei veramente per ore con voi devo anche dire che ci siamo subito a proposito di abitudini che riprenderemo ripresi la nostra abitudine italiana del quarto d'ora abbondante accademico di ritardo sulla partenza e quindi adesso sto prendendo qualche minuto in più perché invece con l'online sapete che eravamo diventati tutti precisissimi non ci riconoscevamo neanche più come popolo in questo però adesso vorrei fare così vi faccio un'ultimissima domanda al volo più che altro per dare tempo a loro di organizzarsi perché prenderemo tre domande dal pubblico la persona che vuole parlare alza la mano ci sarà Valentino se non ho capito male eccolo lì che ha il microfono e quindi dovrà alzarsi e venire qui perché sapete che non possiamo passarci il microfono io ne approfitto per fare un'ultimissima domanda vi chiedo risposte coi tempi televisivi proprio che sapete che sono molto stringati perché voi siete stati così carini mi avete fatto entrare nella vostra famiglia e io adesso mi faccio un po' i fatti vostri no ma in che senso che abbiamo giustamente parlato tanto dei figli perché è ovvio che tutti i genitori hanno poi figli come preoccupazione principale però c'è anche la coppia e abbiamo visto che la coppia come dire è stata messa molto sotto stress abbiamo visto i dati sui divorzi abbiamo visto anche chi non è arrivato a quel punto ma insomma come dire è stato sicuramente un momento molto stressante e lo è tuttora per le coppie ora al di là del bellissimo messaggio che lui ha scritto a lei ieri su facebook e se non l'avete visto andate a vedere la sua pagina facebook e così lo vedrete quindi al di là di questo ma dico li avrete avuti anche voi dei momenti come dire non semplicissimi chiusi in casa in sei con questi quattro figli ecco fateci sentire che siamo tutte persone normali se abbiamo avuto gli stessi momenti mai mai lì no ma io risponde solo lui dai beh io dico il mio che ogni tanto mio figlio Jacopo lo dice no ma l'avevo già citato ogni tanto mi dice guarda che un giorno faccio un video di te nei tuoi momenti peggiori lo mettiamo su youtube e così vedrai tutti quelli che e credo che abbia ragione io devo dire che per me questo è stato un tempo impegnativo faticoso ci ho provato ho davvero io però ho un problema con la rabbia da sempre cioè ci lavoro su e e e quindi per me è stato davvero sfidante devo con i miei figli questa convivenza 24 ore su 24 per me è stata ricchissima bellissima ha messo dura prova i miei limiti e quindi ne ho toccati tanti ne ho visti tanti credo anche in alcune situazioni di essermi esercitato tanto tengo costantemente acceso dentro di me il desiderio il proposito di di fare tesoro anche dei miei momenti peggiori l'ho proprio scritto credo 5 o 6 giorni fa io so che non sono la mia parte peggiore però a volte quella parte peggiore c'è esce e trovo che sia umanissima non la devo far uscire tanto e io su questo commento solo che un giorno mi sono proprio detto ma se mio figlio e pensavo a Pietro i pietri sono meravigliosi perché io trovo che sono pietri di nome di fatto e sono però proprio quelli che ci che ci insegnano l'arte della scultura del lavoro di cesello e scalpello sulla pietra continuamente se lui mi dovesse dire che cosa mi aspetto da te papà ecco è chiaro che io devo imparare molto ancora tanto sulla sull'esperienza della pazienza credo anche di non averla potuta imparare quando ero bambino magari nella mia famiglia eravamo anche noi quattro figli e quindi c'era tantissima impazienza e quindi ho scritto questa cosa che condivido con voi perché è proprio credo il mio pezzo più personale credo che Pietro mi direbbe così papà sii un mare calmo sul quale io possa galleggiare senza temere che le tue onde mi sbalzino di qua e di là dammi tutto il tempo che mi serve per imparare senza farlo sembrare una bomba orologeria pronta a scoppiare da un momento all'altro concedi anche a te stesso un tempo che dedichi solo a me perché se lo trasformi in tempo per tutto per me non resteranno che briciole e le tue onde mi travolgeranno e io mi sentirò perso considera i miei errori parte del tuo percorso anche perché se io non ne facessi tu non avresti il significato che invece ti rende così prezioso e insostituibile nella mia vita di tutti i tuoi doni la pazienza è quello che mi serve di più adesso che sono piccolo e la pazienza che mi doni oggi un giorno anche io te la restituirò come il più grande dono d'amore con cui saprò confortare il tempo del tuo bisogno la pazienza che riceviamo in dono da bambini è quella che non trasformiamo in insofferenza una volta adulti io sono riuscito a scriverlo se riuscirò davvero impararlo penso che mio figlio mi abbia fatto proprio il regalo più grande della mia vita in particolare proprio in questo tempo di tempesta lei non dice niente adesso avete capito il segreto come funziona ok c'è tutto chiaro direi che proprio questa cosa tutte le volte che la sento mi emoziona molto perché credo proprio che sia vera ecco lo dice il fatto che sia riuscito a raccontarla così bene mi sembra proprio una cosa molto bella e quindi me la gusto tutte le volte che la legge poi in pubblico diventa anche una bella cosa e poi devo dire che effettivamente anche in casa in questo tempo questo desiderio di pazienza l'abbiamo sentito tanto se devo mettere a nudo il mio proposito io non ho scritto nessuna poesia e nessun testo così perché non ne sarei capace ma sicuramente in questo ultimo periodo soprattutto in queste ultime due settimane ho toccato con mano la mia sbadataggine cioè le conseguenze della mia sbadataggine io cerco di fare mi impegno davvero a fare tante cose ma poi tante volte mi capita proprio di perdere pezzi e di non riuscire di arrivare in ritardo di dimenticarmi di dire una cosa di andare da prendere un'altra cosa ecco cose che succedono a tutti a volte diciamo che si intensificano gli errori e questa cosa mi spiace perché poi ha delle conseguenze sulle persone che mi sono vicine quindi credo proprio che in questa logica così di condivisione che abbiamo fatto adesso l'idea è proprio che sta nella voglia e nel desiderio di ripartire tutti i giorni e quindi insomma anche essere qui oggi tutti insieme a voi è sicuramente una cosa bella e poi anche lo sguardo dei nostri figli pensavo tante volte in questo tempo allo sguardo di ciascuno dei nostri figli penso a chi è genitore e chi ha in casa dei figli proprio quello sguardo che ti incoraggia e che comunque ti accetta per quello che sei anche se ti vede nella versione peggiore poi dopo rimane lì vicino e ti dice dai siamo tutti pronti a ripartire ecco questa è davvero una bella cosa e questa è famiglia comunque se può consolare faccio fatica io a stare in esotuto con un figlio con quattro altro che perdere i pezzi voglio dire ci ho detto non so se vi siete organizzati nel frattempo ecco se se siamo pronti io vi dico vi confesso che ho le luci negli occhi tipo occhio di bue no? quindi non è facilissimo vedere se c'è qualcuno che alza la mano ecco se mi fate questa cortesia sì sì viene qui sì sì l'ho detto assolutamente deve venire inquadrato la telecamera e non ci passiamo il microfono rispettiamo tutte le regole vedo forse qualcuno che si muove no veramente aiutatemi alzatevi perché perché se no ecco perfetto allora allora dico solo una cosa innanzitutto grazie mille veramente lo sapevo che andavamo a casa con qualcosa e con un pensiero il fatto di mettere questi paletti è sempre fatica anch'io con tre figli è fatica però è fatica che dobbiamo crederci la cosa importante è crederci credo e poi soprattutto farlo pian pianino con amore non si può cambiare di colpo tutto per cui crederci come adesso anche verificare delle piccole cose il fatto di mangiare insieme e questi mesi questi due anni abbiamo mangiato insieme non è più come uno mangia una certa ora uno mangia un altro uno mangia fuori il mangiare insieme è bello è particolare non avere la televisione certo che è un sacrificio è un sacrificio cioè per me no perché non la guardo però è un punto è un punto di riferimento ci può essere anche il silenzio il silenzio può andare bene perché intanto la mente va avanti però questi momenti sono dei momenti da affrontare come dicevate voi perché poi arrivano da soli e affrontare questo sono dei piccoli passaggi anche dei bambini no? piccoli che quando si è a tavola si alzano si muovono e tutto invece poi stanno se tu dici adesso mangiamo il primo poi fai un giro al secondo vieni poi fai un altro giro poi fai questo però sono molto contenta di questo vostro lavoro di questo vostro rapporto portare in giro e essere oggi per la giornata della famiglia qui adazzati tutti insieme sono cose che vanno al cuore pensandoci e poi vanno nella testa credendoci e si migliora bisogna avere la forza di migliorarsi e la speranza effettivamente di portare come tu dici un discorso nuovo un aiuto nuovo e qui si cambia veramente l'educatore c'è qualcuno che vuol chiedere? eccoci ecco venga di qua signora e così non viene preso nella camera buongiorno buongiorno innanzitutto la mia non è una domanda la mia è una presa di coscienza per quello che avete raccontato voi oggi innanzitutto voglio dirvi che sono presente in quel libro mentre la tempesta colpiva forte perché si racconta della mia storia io durante il lockdown ho perso il mio papà in quei mesi di lutto ho tenuto in piedi la mia famiglia perché mi sono sostituita a lui ho curato la mia mamma le mie bambine mio marito mi sono resa conto però che non ho curato me stessa e quando parlavate di isolamento del fatto di richiudersi di non di non voler vedere più le persone mi sono resa conto che anche oggi io sono venuta qua da sola non ho chiesto a nessuno di accompagnarmi perché ormai sono abituata a fare le cose da sola e quindi questa cosa mi insegna che forse è il momento di riappropriarmi delle mie amicizie delle mie abitudini delle cose che facevo prima perché prima ero una persona molto solare e adesso vabbè ho dato a lavorare su di me grazie devo dire che sarebbero anche parole perfette per chiudere perché effettivamente guardate io stessa di incontri in epoca pre covid ne ho fatti tantissimi ed effettivamente sono cambiate tantissime cose è cambiata anche l'emozione io penso sinceramente che ci fossero gli occhi lucidi da parte di chi parlava ma c'erano gli occhi lucidi da parte di chi ascoltava in qualche modo questo momento che tutti noi ognuno con le sue difficoltà si è trovato ad affrontare se da un lato ci ha reso più distanti dall'altro come veniva accennato prima in qualche modo ci ha reso anche più vicini e quindi io spero veramente che da questa serata ognuno di noi abbia portato a casa qualcosa io personalmente tanto e per questo io chiaramente ringrazio i nostri relatori e naturalmente non è un modo di dire più che mai di questi tempi spero ci siano davvero presto altre occasioni per rivederci grazie brava Chiara bravissima Chiara bravissima Alberto Barbara andiamo però a casa contenti non tristi perché oggi abbiamo avuto una lezione importante dobbiamo essere contenti di queste parole perché non avviene sempre non siamo sempre così pronti a cogliere determinate cose non è facile cerchiamo il premio Chiara cerca di aiutare qualcosa e ci siamo riusciti di sicuro oggi ok grazie mille grazie a tutti voi e buona serata ci sono i libri loro possono firmare accendiamo le luci un po' che così non cadiamo se volete il cosiddetto firma copie vi prego in buon ordine in buon ordine qui in fila vi mettete in ordine distanziati come ormai tutti sappiamo fare e qua lui si firma sul tavolino esatto grazie a tutti